Allora mister, buongiorno. Vigilia di una trasferta molto delicata, molto complicata contro una squadra che sta bene. Come sta bene il Catanzaro nonostante la sconfitta con la Reggiale? Sì, è una partita molto impegnativa, quindi dobbiamo prenderla veramente con l'attenzione giusta perché è una squadra molto quadrata, una squadra che ha dei giocatori di livello alto per la categoria. Sono ben assemblati e quindi di conseguenza c'è da lavorare. E anche l'importanza della partita perché comunque loro sicuramente ambiscono a traguardi importanti quindi di conseguenza devono passare proprio su questa partita. Quindi da parte nostra dobbiamo sapere queste difficoltà che oltre sotto l'aspetto tattico, tecnico ma anche motivazionale è una partita diciamo importante. Mister, un passo indietro alla gara d'andata, quella sconfitta bruciante. Cos'è innescato mentalmente quella partita? Ma no, quella partita ha evidenziato proprio il nostro modo di essere perché se io mi ricordo un primo tempo straordinario, dominato, stradominato con due gol di bellissima fattura non c'erano possibilità per loro di giocare, di crearci problemi. Poi invece un episodio, una respinta, insomma una situazione del cavolo e praticamente abbiamo messo in mostra sicuramente le nostre debolezze quindi di conseguenza ci ha fatto capire sicuramente un pochettino la nostra realtà. Quella è una sconfitta che ci brucia tanto perché veramente una partita giocata così bene e poi perdere in quel modo lì insomma ci ha lasciato veramente molto amare in bocca. Sì, a proposito della partita andata, giusto una chiosa probabilmente il secondo tempo è stato uno dei rari, rarissimi momenti brutti del Catanzaro di quest'anno lei l'altro giorno parlava di un Catanzaro che ha sbagliato forse due o tre partite in tutta la stagione forse quel secondo tempo fa parte di quel contesto, no? Sì, ma anche perché venivamo da un primo tempo esaltante forse il miglior primo tempo che abbiamo fatto quindi abbiamo messo in evidenza diciamo debolezze caratteriali abbiamo messo in evidenza debolezze fisiche ci siamo afflosciati e ancora adesso effettivamente non mi faccio capace di quel secondo tempo però bisogna come in tutte le cose accettarli abbiamo fatto tesoro, siamo cresciuti sotto l'aspetto caratteriale anche quella partita lì ci ha dato degli input dove dovevamo andare a migliorare però è talmente variegato diciamo gli aspetti tattici, tecnici, motivazionali di questo campionato insomma che chiaramente lo devi accettare questa situazione Venendo all'attualità la partita contro la Reggiana l'abbiamo analizzata probabilmente forse anche un piccolo calo di tensione che ci poteva stare dopo quella striscia positiva dopo il derby insomma tutto quello che era successo prima adesso bisogna riaccendere la spina bisogna riattivare la spina e le chiedo se magari ecco per farlo sarà necessario anche cambiare qualche uomo in campo No, allora la partita con la Reggiana l'abbiamo rivista tante volte analizzata tante volte e lì c'è stato effettivamente solo un problema tattico non è un problema di spegnere la spina oppure essere meno motivati no, è stato un problema tattico perché abbiamo trovato una squadra che praticamente ci ha messo in difficoltà sotto un aspetto dove effettivamente abbiamo anche lavorato di meno perché noi problemi di gol ne abbiamo avuti pochi ed è venuto fuori una partita che dovevamo assolutamente giocare in spazi ristretti nella nostra fase di sviluppo e purtroppo lì siamo mancati c'è mancato l'attacco alla profondità c'è mancato la coordinazione dei vertici davanti che doveva essere fatti in spazi ristretti quindi con molta difficoltà perché non è facile quando trovi una squadra con nove persone sotto palla loro hanno chiaramente trovato questo gol e lì abbiamo analizzato un pochettino anche l'abbassamento di attenzione sui falli laterali perché chiaramente è un qualche cosa che ci portiamo dietro da tanto tempo e quindi l'abbiamo messo in evidenza questo aspetto qui e poi dovevamo chiaramente fare molto di più diciamo quando una squadra è così bassa è così attenta alla fase difensiva e lì siamo venuti meno è chiaro che noi la motivazione e la voglia c'è stata non è che non c'è stata tant'è vero che se alla fine andiamo a vedere loro hanno avuto due tiri uno ha fatto gol e l'altro c'è stata quella parata di Fulignate a fine primo tempo ma non hanno fatto niente quindi la prestazione c'è stata ma è mancata la qualità nella fase di sviluppo e adesso stasettimana ci abbiamo lavorato perché chiaramente ogni partita ci dà degli input per cercare di migliorarci e è chiaro che quando si perde si rimischiano sempre le carte si va ad analizzare tutta la rosa a disposizione si va a vedere chi è che può stare più in condizione chi è che magari è un po' più confuso quindi chiaramente può darsi che qualcosa si potrà anche Mister il Brescia probabilmente avrà un atteggiamento diverso anzi penso quasi sicuramente rispetto alla Reggiana in casa va fortissimo con Maran ha perso una sola partita ha preso solo sei gol da quando hanno cambiato l'allenatore e quindi è una squadra molto tosta che tipo di gara si aspetta anche dal Brescia? No, loro hanno un equilibrio di squadra acquisita proprio con Maran hanno la capacità di non far giocare l'avversario soprattutto nella loro metà campo e lo fanno bene loro preparano molto bene le partite quindi ci aspettiamo sicuramente dei lavori in funzione del nostro modo di essere è un allenatore bravo Maran riesce a preparare le partite nel modo giusto ma la preoccupazione è che hanno anche dei giocatori di livello alto però secondo me noi abbiamo sicuramente le possibilità per metterli in difficoltà è proprio quello a cui mi riferivo prima quando chiaramente parlavo del Brescia io alla squadra ho detto che è uno scontro diretto e che soprattutto ci dobbiamo abituare a questo tipo di partite perché è una squadra attrezzata una squadra forte una squadra molto motivata proprio in funzione di quello che ha detto lei quindi di conseguenza le insidie di questa partita sono riferite sicuramente a queste cose quindi noi da parte nostra siamo preparati siamo coscienti di questo la squadra lo sa e quindi di conseguenza prendiamo forza anche da questo aspetto qui noi chiaramente dobbiamo consolidare dobbiamo assolutamente cercare di fare il meglio in questa partita sempre per questa partita come siamo abituati a ragionare noi Antonini sta molto bene questa settimana per fortuna non ha avuto problemi diciamo è un fastidi ha superato il problema che aveva quindi si è allenato a pieno regime quindi fa parte sicuramente diciamo della squadra perché fino adesso noi l'abbiamo portato in panchina ma sempre diciamo con col discorso che non era da utilizzare proprio per cercare di evitare problemi maggiori adesso invece è totalmente ristabilito perché comunque gli avevamo tirato un po' il collo soprattutto nelle partite infrasettimanali lui magari con i ritmi della Serie B magari era meno abituato meno pronto però in questo momento qui l'abbiamo pienamente recuperato e Donnarumma bene o male l'abbiamo visto lui sta facendo molto bene molto motivato è entrato molto bene anche tanto è vero che le occasioni le ha avute lui con quel tiro col colpo di testa insomma si è mosso molto bene quindi di conseguenza ne teniamo molto conto anche di questo aspetto qua Mi permetto di fare una considerazione stiamo avendo D'Andrea a spingere al massimo anche in allenamento tutti i giorni vede il ragazzo forse anche più umile nell'atteggiamento? Beh sono ragazzi che voglio dire devono crescere devono maturare devono crescere io a lui gliel'ho detto quindi lo posso dire anche qua che fino adesso lui è sempre stato considerato come un ragazzo che qualsiasi cosa che faceva bene andava bene invece in questo momento qui lui sta giocando in una squadra importante in una città importante ha delle responsabilità alte e quindi di conseguenza noi non è che ci accontentiamo diciamo di quello che fa lui deve essere bravo a fare la differenza perché è un ragazzo che ha le qualità per poterlo fare quindi ecco perché gliele chiediamo e quindi deve guardare proprio alla sostanza del lavoro che fa in campo quindi non basta una giocata bisogna che si applica in tutte le fasi bisogna che lavori in fase di non possesso in lavori diciamo a livello tattico nel modo più giusto e lui è un ragazzo che in questo momento qua sta facendo tesoro diciamo di queste indicazioni e quindi deve crescere ancora deve ancora crescere e speriamo che riusciamo a portarlo diciamo più in alto possibile con le prestazioni di cui abbiamo bisogno di cui abbiamo bisogno